Musica Madonna che bordello che fa la 360 Ehi Allora ragazzi Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gazzaset34 e come potete vedere Oggi giocherò a Call of Duty Modern Warfare 3 Perché Mi è veruta veramente tantissima voglia di giocarci E di riprovare a fare una mob Problemino C'è la 360 Che ho montato qui di fianco Che fa un bordello Cioè rispetto alla One che è silenziosissima La 360 Il tuo account deve essere Più sicuro Forse ce l'abbiamo fatta Oh Cristo, non riuscirò a giocare Che ho fatto di male? Ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego Xbox 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 Che bellissime Xbox Ti offro in dono questo controller Ma fammi giocare una partita Mv3 Una Una mi basta Una sola Non ce la farò Ragazzi questo gameplay è stato bellissimo Veramente mi ha colpito Mi tolgo pure il cuffio Ormai che non mi servono a nulla Ti gioco questo gameplay mi ha veramente colpito Peccato per quella partita in cui ho fatto Quell'errore Perché altrimenti avrei potuto fare meglio Però se non avessi fatto quell'errore in quella partita Mentre gioco online Forse sarebbe uscito un video più bello Non lo so Bisogna vedere Bello eh Quando hai voglia di fare le cose Ma le cose non hanno voglia di fare te Pazienza Non giocherò a Mv3 Per Non spengo l'Xbox Se no faccio danni Ragazzi Questo video giunge al termine Porterò un video su Black Ops 3 Subito Dopo questo Perché Ehi 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 Lasciate un mi piace Per me E i non mi piace andranno direttamente alla Microsoft Segnalerò questi errori Scemi Quindi Ciao Ci vediamo nel prossimo video Volevo tanto giocare Pazienza